Bella a tutti raga e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e siamo pronti qui in una stanzetta pronti per affrontare le bad wars signori miei Siamo 5 su 8, aspettiamo un altro giocatore se non sbaglio perché forse in 6 già si può partire E dovrebbe partire la partita, l'isola è questa di qua, io non so se voi la conoscete ma io non la conosco minimamente Ok sono arrivati 8 su 8, non la conosco minimamente, tra 15 secondi partirà la partita E ci proviamo raga, allora come avete ben capito ormai dai miei video io non sono un fenomeno nei videogiochi Quindi 5, 4, 3, 2, 1 e si parte, ci siamo, ci siamo, ci siamo, raga se eventualmente le bad wars a voi piacciono Qualche volta potremmo anche cercare di organizzare qualche partita online e vedere, io non so come si fanno le stanze private o le cose varie Però se avete minecraft e vogliamo provare a fare qualche volta qualche cosa di assieme Ci si può lavorare, ci si può lavorare, allora io neanche so quanti materiali mi servono Allora, prendiamo un altro po' di materiali, mi dai un altro po' di materiali, 14 Che ci faccio con 14? Salve, mi dai qualche blocco di lana, costa 4,12 Dammi un poco di lana, eh sì E poi anche le armi, mi dai una di una, 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 sì, una Ma che cosa vuole? Non lo capisco, non capisco Ah, costa 7 d'oro, scusami E mo te li piglio subito 7 d'oro, ancora ne vuoi? Eccoli qua, i tuoi bellissimi 7 d'oro, eccolo Oh, perfetto, abbiamo i nostri bellissimi 7 d'oro Abbiamo la lana, copriamo un poco il letto In maniera molto, molto Maiai, ai, 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 ai Ma che sto, ma, no, ma dai Ma stiamo scherzando E sono morto Sono completamente morto Dai, ma non ci credo, ma così no, raga Ma così è veramente brutta però Ma neanche ho visto, ma neanche ho visto la Player quit Retunto lobby Play a game, play a game Random map, random favorite Che vuol dire? Lunar risk in Ma che ne so, ma partiamo da qualsiasi cosa Allora, siamo normalmente 1 su 8 Vabbè, aspettiamo che qualcuno spunti per fare un'altra partita Ah, mannaggia di una miseria Mannaggia di una miseria Dai, morire così è veramente brutto però Mi dovete scusare Dai, 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 dai Sì, sì, sì Ciao amico, anche io voglio darti la mano Dammi la mano amico Ciao, anche io Io saltello, io saltello Dai, siamo 6 su 8 6 su 8 Dai, 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 dai Parti, 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 parti Non è giusto però raga Cioè, boh Neanche il tempo un attimo di capire come funzionava Che subito 20 secondi Dai, siamo 7 su 8 Dai, dai Ti do la mano amico Dai, abbiamo la stessa skin Ti posso dare la mano Tieni, tieni Possiamo essere amici? Vuoi essere mio amico? No, mi è passato in mezzo Mi sta passando Mi sta continuando a passare in mezzo Mamma mia Questo che skin particolare che c'ha Questo secondo me ci viene ad ammazzare Allora, raga Questo secondo me ci viene ad ammazzare Guardate com'è concentrato Lo sguardo di un uomo concentrato Ok, allora Ripartiamo da cavo Prendiamo un po' di blocchi così a casa Ok Prendiamo un po' di blocchi a casa Prendiamo un po' di blocchi a casa Prendiamo un po' di blocchi a casa Ok, 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 ok Cosa ti serve? Allora, per avere un po' di lana Mi servono 4 di iron Ok, allora Mentre lì si fa tutto Noi ricopriamo nuovamente il letto Siamo di color acqua Siamo l'acqua Siamo l'acqua, signori miei Ok Questo l'abbiamo coperto Il letto più o meno è stato coperto Non benissimo Ma il colletto è stato coperto Mi servono altri 2 d'oro Mi servono altri 2 d'oro Per avere una spada di ferro Mi servono altri 2 d'oro Per avere una spada Me lo dai uno di oro Porca miseria Me lo dai uno di oro? Perché non mi sta dando l'oro? Me lo dai l'oro? No, mi sta dando solamente ferro Mi si è buggato Oh, ecco l'oro Oh, ok Allora, prendiamo un altro po' di materiali Prendiamo un altro po' di materiali E poi una bellissima spada in ferro Ok Abbiamo una spada E non abbiamo paura di utilizzarla Allora Noi andiamo verso l'isola centrale Raga Andiamo verso l'isola centrale Non so che cosa ci si possa andare a fare Verso l'isola centrale Ma andiamo verso l'isola centrale Sperando che nessuno ci venga alle spalle A colpirci Cosa è successo? Ah, hanno distrutto il lettore rosso Ok, non ci interessa Hanno distrutto il lettore rosso E non è un problema nostro Non è un problema nostro Il rosso è stato completamente eliminato Porca miseria Che cattiveria Dai Non ci posso credere Non ci posso credere Questa è cattiveria però Abbiamo perso tutto Non è vero? You die Let's destroy E dobbiamo scappare velocemente Raga Dobbiamo scappare velocissimamente Dobbiamo scappare velocissimamente Scappa 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 Pili assisti smeraldi Pili assisti smeraldi Che cosa è successo? Si è buggato tutto raga Si è buggato Io sto continuando a volare Verso l'infinite e oltre Sono morto e non Va bene Che cosa bella? Che cosa bella Ragazzi miei Che cosa bella? Affershide Sì Se magari mi dai la possibilità di Affershide Ok Abbiamo ricaricato un'altra partita Vabbè Ora siamo 2 su 8 In questa C'è qualcosa che non Ora siamo 3 su 8 4 su 8 Dai dai Ma non mi danno Porca miseria Stavo facendo la cosa tanto carina La stavo facendo giusta questa volta Stavo creando il ponte Per arrivare al centro No Come fanno gli altri A avere già subito tutti i materiali? Me lo spiegate Cioè io pure Ho i vari materiali E devo aspettare Però prima che mi si formino Tutti quanti Dico Perché gli altri Già hanno tutti quanti Di materiali subito? 20 secondi Siamo 8 su 8 Dai dai Questa è la terza partita Bella così Che bella Che bella figura Che stiamo a fare Su queste bad words Ragazzi miei Che bella figura 10 secondi della partenza Riuscirò a Magari in una partita Non essere il primo a morire No aspettate Nella seconda partita Non sono morto io per il primo Per prima è morto il rosso Quindi ok Siamo arrivati per ultimi Ok Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Dammi del ferro Dammi del ferro Ok 6 di ferro 6 di ferro mi dovrebbero bastare Per che cosa? Per Un po' di lana Che però con 16 solamente Non vado a nessuna parte Ok Ok dammi un altro poco Ok 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 Dai E dai che rottura di scatole Dai 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 Dammi un altro po' di lana Ok Subito 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 Andiamo in quell'isolotto Là al centro Andiamo l'isolotto al centro Andiamo l'isolotto al centro Subito subito questa volta Il letto ce ne freghiamo raga Tanto con la lana Ce lo distruggono subito Siamo il grigio questa volta Siamo il grigio Dai 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 Siamo il grigio Siamo il grigio Dai 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 Arriva 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 al centro Arriva al centro Dai dai Come se blocchi Ce la fai di mica Ah no ok Siamo in partita Siamo in partita Ragazzi Niente Mi sono un attimino confuso Siamo in partita Siamo in partita Va bene va bene Allora Mi servono altri blocchi zio Mi servono altri blocchi Per costruire Dai 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 Non ho più materiali Va bene va bene Non fa nulla Non fa nulla Allora se non sbaglio Qui stava arrivando qualcuno Può essere Può essere E volevi Aspettate 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 Riesco a prendere un arco Zio me lo puoi dare un arco Salve Due d'oro No Dammi le vite all'arco Preso le frecce Non c'ho l'arco Ma vi sembra normale 12 d'oro Perché ci sono questi scoppi terribili Va bene Dai 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 9 d'oro Dai 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 Mi dai Ho preso le frecce Non ho preso l'arco Ma si può essere così stupidi Ok Il bianco è morto Il bianco è morto Il bianco è morto 10 Quanto ne voleva di oro 10 Forse sì Forse sì Forse gli ne bastano 10 Dai questa partita sta andando bene Abbiamo anche Abbiamo anche 10 Team limited Dai 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 Dammi l'arco Dammi l'arco 12 Dai che paranoia 12 d'oro Mamma mia Come la stai a far sudare Dai Dammi un altro di oro Dammi un altro di oro Uno di oro Uno di oro Me ne serve Me ne dai Uno di oro Oh perfetto 12 di oro 12 di oro Mi devi dall'arco Dammi l'arco Dammi l'arco Bello così Adesso ci divertiamo un poco Adesso ci divertiamo un poco Signori miei Quel tizio dove è arrivato? Quel tizio mi sta attaccando da sopra Quel tizio mi sta attaccando da sopra E noi ci andiamo da sotto invece Noi lo attacchiamo da qua sotto Sì sì Vieni a casa mia Vieni a casa mia Io intanto vengo a casa tua Ma intanto il bianco Il giallo Il verde sono morti Quindi questa volta Non finiremo la partita per ultimi Signori miei Questa volta non finiremo la partita per ultimi Dai, 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 dai Dai, fermati Dov'è il... No, ancora non ci arrivo, ancora non ci arrivo, ancora non ci arrivo Dai, 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 dai Forse riusciamo anche a rompere un letto, raga Forse riusciamo anche a rompere un letto, signori miei Signori miei, forse riusciamo anche a rompere un letto Il letto del rosa Vai, 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 vai Rompi 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 Raga stiamo per rompere il primo letto Stiamo per rompere il primo letto della storia del Abbiamo rotto il letto Abbiamo rotto il letto Abbiamo rotto il letto del rosa Ok Guarda da qua dove possiamo andare Possiamo andare di là Ma non ha senso andare di là signori miei Perché Siamo un attimino messi male Recuperiamo tutti questi Ok bella così Abbiamo un arco e non abbiamo paura di utilizzarlo Abbiamo un arco e non abbiamo paura di utilizzarlo Dov'è il Il rosa che ce l'ha venuto A cercare A casa dov'è Dove sono andati il rosa signori miei Dobbiamo andare a prendere gli altri blocchi Perché questi sono finiti Com'è che ancora Nessuno mi ha distrutto il letto Raga è una partita troppo tranquilla questa Come mai Nessuno mi ha ancora rotto il letto Dov'è il rosa Io sono scemo La di qua vi ho danno Ecco lo sapevo Prendiamo altro materiale Altra materia da costruzione Aspettate un'armatura Posso prendermi un'armatura 12 d'oro O Un'armatura di ferro Ok Ora mi dai un altro po' di materiali Bello così Copriamo un letto Alla San Faso Dai dai Copri 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 Dai 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 Va bene così Va bene così Andiamo 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 a prendere altri diamanti Andiamo a prendere altri diamanti Perché non ho preso un piccone Là sotto si stanno ammazzando Che ci faccio con 10 diamanti raga Quel letto lo andiamo a distruggere Andiamo a distruggere quel letto Raga andiamo a distruggere quel letto Subitissimamente Subitissimamente Vai 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 Che nessuno mi vede Che nessuno mi vede Vai 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 che nessuno mi vede Vai 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 che nessuno mi vede Vai che nessuno mi vede Vai 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 Veloce 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 Siamo più sobri Dai 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 rompi 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 Letto del rosso rotto raga letto del rosso rotto Bello così gli freghiamo pure tutto il materiale Gli freghiamo pure tutto il materiale Bello così bello così mi dai qualche cosa di meglio Spada che mi puoi dare spada no questa non la possiamo fare Questa già ce l'ho Però mi puoi dare un piccone Mi puoi dare uno di iron Boh Dieci di iron Sì dai Pidiamo il piccone bello potenziato Bello tosto Me lo metti qua il piccone Perché non mi fa mettere il piccone qui Grazie gentilissimo Ok Che possiamo fare ora Che possiamo fare raga Là c'è il blu Il blu già è morto Però dove sono tutti quanti Il rosso sta costruendo là Ce lo faccio a beccarlo secondo voi Bam 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 Mannaggia Bam Più alto più alto più alto Bam Uh abbiamo ammazzato il rosso Abbiamo ammazzato il rosso Abbiamo fatto una kill Spettacolo raga Siamo da soli con l'acqua Dove è l'acqua che ha tutte cose ancora raga L'acqua c'è ancora tutte cose Abbiamo ucciso il rosso raga Abbiamo ucciso il rosso Spettacolo Allora Abbiamo ucciso il rosso Allora dobbiamo cercare l'acqua Dobbiamo cercare l'acqua signori miei Dobbiamo cercare l'acqua Via 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 Veloce 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 Sfruttiamo il ponte Del rosso Per raggiungere l'isolotto centrale Qua dovrebbero esserci gli smeraldi Secondo me Secondo me qua dovrebbero esserci gli smeraldi Perché è l'isolotto centrale Vediamo un attimino Ok la vedo degli smeraldi La vedo degli smeraldi Andiamo a recuperare che dovrebbero essere anche qua gli smeraldi Dai 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 Nooo l'acqua mi ha distrutto il letto Mannaggia mannaggia L'acqua mi ha distrutto il letto Pilla sti smeraldi Ok Dobbiamo cercare l'isolotto dell'acqua Li devo andare a distruggere il letto all'acqua Allora devo andare a trovare il letto dell'acqua Di là c'è il rosso Di là c'è il rosso Di là da dove veniamo noi Il giallo Il giallo è lì Là ci sono gli smeraldi L'acqua è là praticamente L'acqua è là signori miei Allora aspettate aspettate Dobbiamo riuscire a trovare il passaggio per andare verso l'acqua Dobbiamo riuscire a trovare il passaggio per andare verso l'acqua Intanto partitona Partitona signori miei Abbiamo fatto una kill e un letto distrutto Abbiamo fatto una kill Dai 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 Dammi questi blocchi Dammi questi blocchi Vai 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 Veloce 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 Dobbiamo andare a ammazzare il Dobbiamo andare a distruggere il letto dell'acqua Dai 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 Letto dell'acqua che sarà là E mi sa che non ce la faccio con i blocchi Dai 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 È emozionante Emozionante Mi sa che finiscono i blocchi Mi finiscono i blocchi prima No 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 ti prego Dai 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 L'acqua non ci avrà mai L'acqua non ci avrà mai signori mie L'acqua non ci avrà mai Non ci avrà mai l'acqua signori mie No io l'acqua non ci arrivo Io l'acqua come cazzarola ci arrivo E io là come cazzo là ci arrivo E' tornato a casa sua lui E' tornato a casa sua Io non ho come arrivarci Mannaggia non ho come arrivarci Mi stanno anche a finire frecce Mannaggia non ho come arrivarci Eccolo 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 che arrivo E raga No Siamo arrivati i secondi però raga Siamo arrivati i secondi Dai dai Io ho andato a 265 l'esperienza Stiamo quasi arrivando a livello 2 Bella così Bella così Mi è piaciuta Mi è piaciuta Siamo arrivati i secondi E vabbè raga Meglio di niente Progressano avanti Detto questo ragazzo Io vi ringrazio per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like e per i commenti Se volete possiamo farci qualche partita assieme Qualche volta con le Bedwars Detto questo ragazzo Io vi ringrazio per tutto Ci vediamo domani alle 2 e mezza Per la live su FIFA Bella raga Ciao Ciao Ciao